Dal 7 al 21 luglio Scanno ospiterà la quindicesima edizione della competizione di partinaggio artistico a rotelle denominata Trofeo Nazionale Formula Wisp. La manifestazione è stata presentata questa mattina a Pescara alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che si è detto fiero di aver patrocinato un evento di respiro nazionale che si svolge a Scanno, che è uno dei luoghi più belli d'Italia e che coinvolgerà 1500 atleti dagli 8 ai 20 anni, 230 società provenienti da 13 regioni, dalla Puglia fino al Friuli. Il Presidente ha ringraziato i rappresentanti Wisp per l'impegno profuso nell'organizzare la manifestazione, che rappresenta certamente una straordinaria occasione di promozione del territorio. È indispensabile tornare a parlare dell'Abruzzo in termini positivi, ha sottolineato Sospiri, lavorando per far conoscere le nostre eccellenze, anche attraverso eventi sportivi come questo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Alberto Carulli, Presidente regionale Wisp, Gloria Mariani, dell'organizzazione tecnica, Carlotta Negro, che è il direttore del comitato pattinaggio 2019, Alina Esposito, coordinatrice regionale Wisp sezione pattinaggio e Giuseppe Marone, Vice sindaco di Scanno. Grazie.